L'ennesimo suicidio, chiamiamolo universitario, questa volta la vittima è Chiara Biondi, una ragazza campana di Somma Vesuviana di 27 anni, che si sarebbe suicidata, sì possiamo dirlo, a causa dell'università e in particolare avendo raccontato ai genitori delle notizie, delle informazioni non vere, relative al corso di laurea in lettere che stava portando avanti. La ragazza avrebbe detto ai genitori che era questione di poco tempo e la laurea sarebbe arrivata, mancava soltanto l'ultimo esame di latino e poi la laurea sarebbe arrivata nelle sue mani. Purtroppo da quanto si è appreso questo non era vero, la ragazza era fuori corso e il percorso era un po' più lungo quello che aveva davanti. Ebbene la ragazza scompare, qualche giorno fa è scomparsa, non si sono avute più sue notizie e ha detto ai genitori, alla famiglia che sarebbe andata a Napoli all'università, questo purtroppo non è avvenuto. La ragazza è scomparsa e è stata poche ore fa trovata morta, si è gettata in un dilupo, ha lasciato la sua borsetta lì lungo una ringhiera e si è gettata nel dilupo. Infatti come titola qui un giornale online, le ultime parole della studentessa Diana Biondi, vado a ritirare la tesi. Quindi lei ha raccontato ai genitori che ormai era solo questione di giorni, la tesi l'avrebbe discusso a breve e questo non era vero. I genitori denunciano la scomparsa e la ritrovano. Io credo che bisogna essere o ipocriti o ciechi, o magari entrambe le cose insieme per non rendersi conto che c'è qualcosa che non va. Ma non solo c'è qualcosa che non va, c'è un problema strutturale della società. Perché una società in cui a distanza di poche settimane si verificano tre, quattro, cinque suicidi per ragioni universitarie, se possiamo così definirle, è una società che non funziona. Alcuni studenti hanno organizzato delle manifestazioni per solidarizzare con Diana e per sensibilizzare su questi temi facendo degli striscioni con scritto la vostra università uccide. Insomma, prendendosela un po' con l'istituzione universitaria. Ecco, io do una lettura, se vogliamo più negativa, ma a parer mio più onesta e realistica, che vede il responsabile di questo, fatto di questo e degli altri suicidi, si indirettamente, nel sistema universitario, un sistema universitario basato sui crediti formativi, basato appunto sulla competizione interna, sull'accelerazione che peraltro si riscontra nel nostro modo quotidiano di vita e di vivere. Quindi un'università che è sbagliata la radice, questo sicuramente, ma io credo in maniera più profonda e analitica che il problema di questi suicidi, e quindi il problema che ha riguardato anche la studentessa Diana Biondi, sia da rintracciare in un sistema sociale che è sbagliato alla radice. Però i commentatori, molti giornalisti, anche lo stesso rettore dell'università Federico II di Napoli, che frequentava la ragazza, danno delle risposte parziali, delle risposte secondo me anche in mala fede, per non affrontare quello che è il vero problema, che è un problema strutturale, sociale, più ampio. È questo che bisognerebbe dire e raccontare. il rettore della Federico II, avendo appreso della notizia del suicidio di questa ragazza, frequentante appunto l'università da lui diretta, ha detto se avete un problema ragazzi vi prego segnalatecelo, se avete difficoltà relative al percorso di studi parlatene con noi. Non è un problema di difficoltà relative al percorso di studi, questo è un problema strutturale della società. E veniamo al dunque, quale sarebbe questo grande problema, che poi in realtà è un intreccio di problemi? Beh, in primis una società basata sulla menzogna, perché la nostra società, e mi riferisco in particolare all'Occidente, all'interno del quale rientra anche l'Europa, in particolare l'Italia, ecco l'Occidente si basa su un concetto sbagliato di essere umano. Cioè oggi l'essere umano in Occidente chi è? È chi produce, chi riesce a produrre, chi riesce a realizzarsi, ma non a realizzarsi nel senso come persona, a fiorire interiormente, a impegnarsi per cambiare il mondo. No, oggi la nostra è la società delle risorse umane. Risorsa umana è un termine terribile, bruttissimo, uno dei termini più brutti delle espressioni più terribili che potevamo coniare. Risorse umane, capitale umano, costo del lavoro. Sentite questi termini che vengono assolutamente illustrati, inoculati direi, in certe facoltà universitarie in particolare, ma ormai è un po' lessico politico, giornalistico, economico quotidiano. Sono espressioni bruttissime perché indicano una deficienza dell'umano a favore del tecnico e dell'economico. Cioè costo del lavoro significa l'economia, la competizione, la produttività. Queste sono cose importanti. L'essere umano è un costo. Risorsa umana, risorsa non è un termine positivo che si può intendere come appunto qualcosa da cui fiorisce altro. Per quello ci sono altre parole, altri termini. No, risorsa umana significa un qualcosa di sfruttabile. La risorsa è l'acqua, la risorsa è il vento. Il termine risorsa nasce in ambito proprio tecnico-ingegneristico e significa questo. Io prendo un quid, un qualcosa, e lo uso, lo plasmo per altro. Ecco, la nostra è la società delle risorse umane. Ma che c'entra questo con la morte di Diana Biondi? C'entra perché questa è l'analisi che va fatta. Finché facciamo gli striscioni la vostra università uccide. Il rettore che continua a dire se c'è un problema ditecelo. Il papà della ragazza che commentando la tragica notizia dice ma non abbiamo mai fatto pressione sulla ragazza, non capisco. Bisogna andare alla radice. E il suicidio di questa ventisettenne di Somma Vesuviana si iscrive, ripeto, in una società in cui non contano gli esseri umani, non conta la felicità, non conta lo stare bene insieme, non conta la coesione, la comunione con gli altri, che sono le cose più importanti. Senza di queste la vita non ha senso, non serve vivere, è veramente inutile, perdiamo tempo. Ecco, nella nostra società queste cose qua non contano. Che cosa conta? Io mi sono fatto da solo. Sentite l'egoismo. Io ho scalzato tutti gli altri, non me ne frega nulla. Io da solo ho realizzato il mio capitale, la mia ricchezza, il mio lavoro. Poi c'è l'arrivismo, cioè appunto bisogna laurearsi, bisogna ottenere certificati, attestati, lauree, master, dottorati di ricerca. Poi c'è un'accelerazione totale, per cui non solo ti devi laureare, ma caspita, lo devi fare con velocità. Diana era fuoricorso e quindi si vergognava a dirlo, perché se sei fuoricorso sei uno sconfitto, sei un perdente. Questa era l'idea che c'era, forse alla base anche del suo pensiero, ma un'idea diffusissima, che non riguarda soltanto lei, che non riguarda soltanto l'università. L'università è, come dire, l'approdo ultimo di questo sistema autodistruttivo, ma che però, ripeto, non riguarda soltanto l'università. E poi, e poi, appunto, competizione e arrivismo che significano che cosa? Che, appunto, gli esseri umani, tornando a quello che dicevo poco fa, sono risorse umane se sono produttivi, se competono, se si fanno da soli, cioè se si lasciano sfruttare o se comunque vengono di fatto sfruttati. Allora sei una risorsa umana. Se non sei sfruttabile, se non ti fai da solo, se non sei ricco, se non sei inserito nel circuito economico dominante, sai come ti chiami? Ti chiami esubero, ti chiami costo del lavoro, ti chiami spreco. Cioè, sei inutile! La nostra è una società in cui o sei utile, o sei utile nel senso che sei sfruttabile, cioè che sei inserito, appunto, in questo contesto di competizione, di guerra, e hanno pure il coraggio di dire che è normale, che tanto è così che ci vuoi fare. Se no sei un esubero, sei uno scarto. Ecco, questo è il termine, secondo me, ancora più appropriato, uno scarto. Diana, forse, si sentiva uno scarto, perché non era riuscita a terminare gli esami in tempo, era fuori corso, non aveva coraggio di dirlo ai genitori, non aveva coraggio di dirlo alle amiche, non aveva coraggio, forse di dirlo nemmeno a se stessa, ma non perché è sbagliato essere fuori corso, non perché è sbagliato non laurearsi in tempo, ma chi se ne frega della laurea in tempo, della media dei voti, della carriera, le cose più brutte e meno importanti della vita. Però lei era vittima, come lo siamo tutti, solo che c'è chi arriva al suicidio e chi si ferma prima, ma tutti siamo vittime di un sistema sbagliato, malato, e se vogliamo interrompere questa coazione a ripetere del suicidio, questa spirale totalmente distruttiva, autodistruttiva di queste morti, bisogna cambiare la radice della società. Quindi non è un discorso di fare gli striscioni, non è un discorso di fare delle manifestazioni di solidarietà, che pure sono importanti. Qui bisogna cambiare il sistema, è inutile che scendete in piazza con gli striscioni a favore di Diana, cioè per ricordare questa vittima del sistema, quando poi siete gli stessi che all'università competete in continuazione. Vi chiedono gli appunti, no, 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 non te li passo, mi puoi aiutare perché non ho capito bene questa cosa, no, vai a fare ripetizioni, io ho da fare. Oppure vi chiedono un suggerimento durante il compito, durante la verifica, coprite tutto, vi mettete così per evitare che l'altro sbirci perché io ho studiato, tu no. Quando voi siete i primi che vivete in un'ottica di competizione, allora la competizione eliminatela nella vostra vita ed eliminatela a livello universitario. Come? Appunto, smettendola di competere. Inutile che fate gli striscioni, che fate gli striscioni, povera Diana che si è suicidata, si è suicidata per un sistema che tutti noi, chi più, chi meno, chi in un modo, chi in un altro, ma tutti noi contribuiamo a portare avanti. Tu che stai guardando questo video non sei un numero, non sei il voto che hai preso a scuola o all'università, non sei la tua media universitaria, aritmetica o ponderata che sia, non sei i tuoi titoli. Io sono laureato con 110 lode, non me ne frega niente, tu hai la stessa dignità mia, sua, di Diana, di tutte le persone. Noi dobbiamo tornare alla dignità umana. La dignità umana non c'entra nulla non solo con i voti, non solo con i titoli di studio, ma neppure con il lavoro, con il conto in banca, con la cilindrata della tua macchina, con le donne che ti sei portata a letto. Non c'entra nulla. La dignità è incondizionata, incondizionata e totale. Tutti abbiamo il diritto, ma anche il dovere, perché dipende da noi di essere felici. Ecco perché io dico e ribadisco anche in questo video che noi non dovremmo essere così attaccati ai risultati, al titolo che abbiamo. Io sono ingegnere, io sono un giornalista, io sono un medico, io ho 5-6 lauree. Perché ci loguerano queste cose e ci sviliscono, ci privano della nostra vera umanità. Poi c'è il suicidio. Ogni tanto qualcuno si ammazza e non si capisce perché. Ma perché? Ma era giovane, aveva tutta la vita davanti e, come dice qualche mio collega giornalista, era anche una brava persona, espressione di una banalità disarmante. Quando muori sei sempre bravo. Ma poi chi se ne frega? Una persona che è morta è una persona che è morta, punto. Non serve usare questi slogan, questa retorica, era bravo, non era bravo. È un essere umano che non c'è più, che è morto. Quindi il fatto mi pare grave di per sé, soprattutto per le modalità con cui è avvenuto. Ecco, noi dovremmo basare la nostra vita su altre cose, sulla condivisione, sulla comunione, sulla relazione, sull'aiuto reciproco, dove l'università, ma non solo, la scuola, il posto di lavoro, gli ospedali, il volontariato, i ristoranti, le farmacie, ogni luogo, ogni istituzione, ogni locale, ogni spazio di vita, che è sempre vita in comune, diventa un luogo dove la vita pullula. Ecco, pullulare, mi piace come verbo, è un po' inusuale, ma è bello perché indica proprio questa vita che si rigenera, che sgorga. La vita che pullula è la vita inesauribile, che noi abbiamo interrotto, a forza di pensare alla competizione, alle risorse umane, alle skills, alla carriera, alle competenze, altro termine che a me farà brividire, la società delle competenze. La società delle competenze è la società che spinge al suicidio, perché o sei competente, quindi sei una risorsa umana, o sei uno scarto, un esubero e quindi ti ammazzi. Quindi è sbagliata la logica. È sbagliata la logica. Ora il cordoglio per la morte di questa ragazza, Diana Biondi, si stringono tutti negli abbracci, così parla fanpage TGcom24, Open, Il Corriere della Sera, Il Mattino. Somma Vesuviana, una studentessa suicida dopo la bugia sulla laurea. Striscione shock all'orientale, la vostra università uccide. Non è lo striscione essere shock, è una società malata, impostata male, basata male, ipocrita. E quindi lei, come dice il mattino, ha scelto di dire addio alla vita e al malessere che le avrebbe procurato aver mentito sulla sua carriera universitaria, non capendo il problema che c'è alla base, non capendo nulla. E quando la diagnosi che si fa è scorretta, come avviene ormai da anni, non risolveremo mai i problemi, perché siamo in un'ottica scorretta alla base. E quelli che vanno appunto a fare queste manifestazioni sono gli stessi che poi amano parole come competizione, come risorse umane, sono gli stessi appunto che creano quell'ambiente infernale che ha portato anche questa ragazza al suicidio. Quindi che dire, concludo dicendo questo, che la morte di Diana Biondi è una storia tristissima, è una storia cupissima, perché primo ci rende tutti responsabili, quindi non fate i furbi, non c'entro niente, tutti siamo responsabili perché portiamo avanti un sistema del genere. E ci ricorda che viviamo in una società disumana, non dico bestiale, perché gli animali, cioè volgarmente le bestie, sono assolutamente dotati di umanità e di assolutamente rispetto a noi. Ci ricorda che abbiamo dei problemi che hanno radici molto lontane, cioè i problemi sociali hanno origine circa, non so, hanno avuto origine almeno duemila anni fa e ce li portiamo dietro, quindi la competizione, la logica del potere, il dominio. Cioè l'Occidente, da Omero ad oggi, è intriso di queste logiche, quindi il potere, l'essere umano che appunto deve essere plasmato per dominare il mondo, eccetera. E quindi ci ricorda anche che spesso siamo molto soli, non sappiamo empatizzare, non siamo capaci di umanità e ci ricorda quanto dovremmo nella vita di tutti i giorni essere empatici, quindi anche all'università, nei posti di lavoro. Capita quella persona che noi cogliamo essere triste, essere un po' disagiata, soffrire, e noi dobbiamo aiutarla, dobbiamo aiutarla senza quelle ipocrisie che ci sono oggi. Ti vendo gli appunti, noi non ti vendo nulla, te li regalo, io ho sempre donato i miei appunti, li dono e non è una perdita, è un guadagno immenso. Perché? Beh, perché faccio un'opera di bene, faccio una cosa che farà star bene un'altra persona, non aiuto un'altra persona. Quindi gli appunti donateli, smettetela di mettere in vendita gli appunti universitari. Poi le persone aiutatele, ascoltatele, le chat whatsapp dei gruppi universitari, che sono diventati il luogo dove parlare degli aperitivi universitari, dei giovedì sere universitari, delle feste universitarie, e i luoghi dove dire, scusate l'esame in che aula è? Ecco, i gruppi universitari, facciamoli vivere! Quindi rispondete ai messaggi, solidarizzate! Quando la mattina è entrata all'università, non state col broncio, col muso giù, non parlando con nessuno, parlate con le persone, guardateli in faccia, chiedetele come ti chiami? Ci andiamo a prendere un caffè insieme? Non fate gli striscioni, gli striscioni non servono a niente, servono in maniera assolutamente ipocrita per pulirvi la coscienza. Io partecipo alla vita della società, io partecipo, io faccio capire che sono contro la morte di Diana Biondi, ma tutti sono contro. Certo che dispiace, dispiace anche a tutti quelli che portano avanti a livello politico ed economico un sistema mortifero e un sistema distruttivo. Certo che in fondo dispiace anche a loro, ma sono nel vortice dell'autodistruzione e quindi anche a causa di questi soggetti altri suicidi si verificheranno, altre morti si verificheranno, altra distruzione continuerà a popolare il nostro mondo. Quindi siate coerenti all'università, donate gli appunti, parlate con tutti, aiutate gli altri e se vedete che uno sta male impegnatevi per aiutare quella persona, per fargli capire che quella persona è speciale e non è speciale perché si è laureata o perché ha preso 110 lode o perché potrebbe prendere un voto alto, ma chi se ne frega. È speciale perché la vita ha un valore in sé, al di là dei risultati che noi otteniamo. Ecco, se voi farete questo, se noi faremo questo, anche io, eviteremo qualche suicidio. Qualcuno ce ne sarà forse, ma non più 10 all'anno, ce ne saranno 8, 7, 6, fino ad alzerarli completamente. Ecco, e quindi facciamo capire che la bellezza della vita, la felicità, sono cose belle, possibili, appunto, al di là della laurea, al di là della laurea e di queste cose che vengono scritte. La triste storia di Diana, studentessa, con l'incubo dell'ultimo esame all'università, l'incubo. Quindi ecco, la morte non è stata causata dall'università, ma da un sistema di morte, un sistema che porta alla morte. Perché qui parliamo di Diana, suicida per motivi, diciamo così, legati all'università, ma i suicidi di gente che non trova lavoro, i suicidi di persone licenziate, di persone che non hanno i soldi per mantenere i figli, è una società veramente disarmonica, disumana e distruttiva, a 360 gradi. Quindi un abbraccio, come dire, a Diana, alla sua storia, alla famiglia e spero, ripeto, che serva almeno per comprendere che tutti siamo responsabili e che non possiamo, poverina, no, dire vabbè, poverina, che ci vuoi fare, è capitato, piangiamo un po'. No, cambiamo la società radicalmente, radicalmente da ora, non ci sono scuse, da ora. Un abbraccio, un saluto, condividete il video che magari può aiutare qualcuno a pensare, a riflettere.